Esplode la protesta dei lavoratori Asta. Giovedì faranno quattro ore di sciopero a turno e contestuale sitin davanti al palazzo Donini, quello della regione dell'Ungria, Perugia, a decidere la giornata di mobilitazione del RSU per tutti i lavoratori dello stabilimento inaccettabile che a distanza di sei mesi dall'inizio del piano finanziario ancora non sia stato definito un piano industriale che tuteli complessivamente il sito, dicono i siti. A fine mese scadranno circa 30 contratti a tempo indeterminato. Le RSU di Viale Brin contestano duramente la mancata convocazione di un nuovo incontro, inizialmente previsto per la metà di marzo, al Ministero dello Sviluppo Economico. Ad oggi non si è evidenziato alcun intervento da parte istituzionale politica volto a sostenere il confronto e a ricercare soluzioni condivise.